Terza partita, trasferta di Cremona domenica sera, come ci arriva la squadra Vincenzo? Innanzitutto molto soddisfatti per le prime due partite di campionato dove abbiamo giocato a tratti buona palla canestra, abbiamo portato a casa due risultati positivi, quindi anche molto carichi nonostante continuiamo a rimanere con i piedi ben saldi a terra. In settimana abbiamo lavorato bene, purtroppo tutta la settimana non abbiamo avuto la squadra al completo ma negli ultimi giorni lo eravamo, quindi abbiamo preparato bene la gara. Vedremo poi domenica sera come andranno le cose. Più acciaccato forse è Kennedy, come sta? For me è la terza settimana che deve convivere con un problema importante alla caviglia, piano piano va recuperando, speriamo che riesca ad uscire sano dalla partita di Cremona, quindi vorrà dire che riusciremo a fare una settimana di allenamenti con lui nel roster. Ti sorprende lo 0-2 di Cremona anche abbastanza netto di questo inizio di campionato? Ma come dici te siamo all'inizio di campionato, quindi ci può stare che qualche squadra, cambio allenatori, giocatori, qualche problema all'inizio, sono solo due giornate, quindi non bisogna saltarsi per due vittorie consecutive come per noi o abbattersi per eventuali due sconfitte come è successo a Cremona. Sappiamo che ci troveremo di fronte a una squadra che vorrà riscattarsi di queste due prestazioni sotto tono, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, al nostro campionato, quindi concentrati e carichi per la partita di Cremona. Come si mette in difficoltà Cremona visto che di solito le formazioni di Meosacchetti guardano più all'attacco che alla difesa? Ma innanzitutto non cercando di fare qualche punto più di loro, ma cercando di giocare la nostra gara con consistenza difensiva, sia perché in questi inizi di stagione stiamo giocando discretamente in difesa e soprattutto quando giochi contro squadre, soprattutto come quelle di Cremona, in generale votato all'attacco, il tuo attacco deve partire da una difesa costante per tutti i 40 minuti, per cui difesa dura, evitare di farli segnare nei primi 10 secondi dell'azione e poi dopo una buona esecuzione in attacco come abbiamo avuto nelle prime due giornate, ci fa ben sperare. Grazie a tutti!